Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati con il mio canale YouTube, io sono CB99 e oggi ragazzi siamo qui tornati in un nuovo video veramente molto molto importante perché oggi, giovedì 4 aprile del 2024, andremo a parlare, andremo a fare il quadro di quello che è il momento nella dirigenza della Juventus perché in questi ultimi giorni stanno arrivando veramente tanti tanti cambiamenti all'interno della dirigenza della Juventus quindi andrò un attimo a spiegarvi qual è la situazione e a dirvi ovviamente come sempre la mia opinione prima di iniziare con questo video però io vi chiedo il massimo supporto come sempre, lasciate tutti quanti like che è di fondamentale importanza iscrivetevi tutti quanti perché a voi non cambia nulla, a me fate un enorme piacere e poi commentate e ditemi un attimo la vostra su questo momento societario detto questo possiamo iniziare nella giornata di martedì è arrivata una notizia veramente molto molto importante confermata dai migliori giornalisti di calcio mercato come Nico Schira, come Fabrizio Romano, come Gianluca Di Marzio, come Romeo Agresti, insomma dai migliori esperti di calcio mercato ovvero qual è questa notizia? quella che Giovanni Manna, l'attuale direttore sportivo della Juventus, l'attuale braccio destro, chiamiamolo così, di Cristiano Giuntoli alla Juventus è promesso sposo del Napoli, era già da diverso tempo che si parlava di un addio di Manna a fine stagione è arrivato, hanno trovato l'accordo, a fine stagione, a giugno, Manna diventerà il nuovo direttore sportivo del Napoli questa è la prima notizia, una notizia importante, Manna partirà, andrà a fare il direttore sportivo del Napoli e va bene così l'altra notizia uscita un po' di tempo prima che vi ho scritto anch'io su Twitter perché mi è stata confermata da delle persone importanti è quella di Federico Cherubini, Cherubini da diverso tempo dirigente della Juventus è promesso sposo, lui invece al Parma ha un accordo con il Parma, in questi anni si è occupato del settore giovanile della Juventus è il promesso sposo del Parma, dovrebbe andare al Parma, fermerà un contratto col Parma non so lì che ruolo ricoprirà, penso direttore generale se non vado errato quindi andrà al Parma e quindi nel giro di poco tempo la Juventus perderà Manna e Cherubini come andrà a rimpiazzare questi dirigenti in partenza? i nomi sono due, quello di Pompiglio e di Stefanelli Pompiglio arriverà di sicuro, arriverà a parametro zero, diciamo così, dal Napoli perché a giugno gli scade il contratto ed ha sempre un collaboratore di Cristiano Giuntoli e a giugno, appunto, quando gli scaderà il contratto col Napoli raggiungerà il suo amico Cristiano Giuntoli a Torino e si occuperà, prenderà il posto di Manna sostanzialmente invece Stefanelli verrà preso anche lui, dovrebbe fare collaboratore di Giuntoli quindi Giuntoli figura centrale e poi Stefanelli e Pompiglio che lo aiutano a fare le trattative magari a riservare qualche calciatore di qua e di là e Stefanelli invece è molto giovane, mi sembra che abbiano circa una quarantina d'anni quindi veramente giovane, con però già abbastanza esperienza perché lui arriverà dal Pisa anche lui è un direttore sportivo e appunto arriverà a fare il braccio destro di Giuntoli anche lui diciamo braccio destro, Pompiglio, braccio sinistro, Stefanelli però oltre a questi due dirigenti ci dovrebbe essere anche un altro ingresso in società, in dirigenza di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Matteo Scala Matteo Scala da giugno dovrebbe diventare il nuovo capo scout della Juventus perché ancora a ottobre, novembre la Juventus ha ceduto il proprio capo scout Matteo Tognozzi al Granada dove è andato a fare il direttore sportivo e fin lì, fino adesso, da quel momento fino adesso non è mai stato rimpiazzato a giugno dovrebbe venire rimpiazzato da Matteo Scala che attualmente come vi ho detto è un osservatore del Genoa e dovrebbe diventare il capo osservatore della Juventus e anche lui ha conoscenze diciamo con Cristiano Giuntoli quindi ragazzi queste erano le notizie che avevo da darvi quindi Manna e Cherubini out, Pompiglio, Stefanelli e Scala in queste sono le novità e i cambiamenti in società per me è una mossa che era già nell'aria, era già programmata da tempo perché Pompiglio era un collaboratore di Giuntoli, sarà di nuovo un collaboratore di Giuntoli quindi siccome era una cosa anche prevedibile Stefanelli anche se ne parlava a diverso tempo, li prenderà al posto di Cherubini si occuperà sempre di mercato, di giovani, di scouting e Matteo Scala invece è un nome nuovo, è venuto fuori nelle scorse ore specialmente da Mirko di Natale soprattutto il grande Mirko, il grande giornalista, insomma ha fatto il suo nome ne ha parlato ed è stato confermato sicuramente anche da altre fonti dirette insomma lascirà il Genoa e apruderà la Juventus è una cosa molto molto importante perché quindi Cristiano Giuntoli ritroverà tutto il suo staff al completo sarà libero di lavorare con il suo staff e quindi sono notizie veramente molto molto importanti non cambierà nulla, cioè non è che adesso arriva Pompiglio, arriva Stefanelli e la Juventus cambia totalmente il progetto no, c'entra assolutamente niente anche perché come detto essendo collaboratore di Giuntoli hanno più o meno le stesse idee, lo stesso modo di operare del direttore toscano attualmente direttore generale della Juventus ecco quindi ragazzi detto questo io vi ringrazio per la visione di questo contenuto vi ricordo come sempre lasciare il mio supporto, like, iscrizione e commentino noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video video che almeno di clamorose notizie dovrebbe essere quello di domenica con il post partita di Juventus-Fiorentina io vi saluto e fino alla fine forza Juventus ciao ragazzi